Salve, salve da Marco Calabro, ci troviamo oggi da Centro Aredi a Catania in viale del Medaglio d'Oro. Siamo qui per fare la nostra perizia sempre per conto di Alleanza Mobilieri. Oggi stiamo parlando di un prodotto dell'azienda Mab, il prodotto si chiama Flyteam, stiamo evidentemente parlando, lo state vedendo, di una cameretta per ragazzi, è una cameretta simpatica, gradevole, ha tantissime possibilità di colori, quindi si può creare la combinazione di colore che si vuole. Il prodotto è un prodotto bello, elegante, ha un numero di cerniere adeguato al tipo di struttura, perché anche questo problema bisogna considerarlo, cioè il numero delle cerniere devono essere in quantità tale da poter resistere al lavoro che un bambino o un ragazzo può effettuare con una cameretta. Il prodotto, lo state vedendo, in questo caso è stato abbinato l'arancione con il verde che è uno dei quattro contrasti della pupilla umana, quindi ha un grosso impatto dal punto di vista visivo. Il prodotto, lo state vedendo, sicuramente simpatico, ci dà tutte le possibilità che vogliamo in termini di combinazione e lo riteniamo un prodotto da segnalare. Grazie sempre per la vostra disponibilità e arrivederci quindi al prossimo video.